Grande partecipazione al primo memoria alla Dario Patroniti che si è svolto domenica incontra da Furcio Militello Rosmarino. Gli amici del club 4x4, le Aquili di Alcara, organizzatori della manifestazione, hanno voluto creare un momento di festa nel ricordo del giovane di Alcara Lifusi morto a solo 22 anni a causa di un incidente a bordo della sua moto. Durante la giornata è stata consegnata anche una targa ricordo alla famiglia di Dario. La competizione delle prove di abilità off-road su circuito chiuso ha visto sfidarsi 40 equipaggi. Volevo ringraziare l'associazione, il club, le Aquili di Alcara per la bellissima giornata che hanno organizzato oggi. Veramente si sono impegnati affinché riuscissero nel miglior modo possibile. Tanta affluenza, tanta gente per una giornata a dir poco magnifica e auguro che in futuro questa iniziativa possa avere un grande miglioramento per il bene di tutti i nostri comuni zonali. Molto soddisfatto della riuscita della manifestazione, il presidente del club, le Aquili di Alcara. Abbiamo potuto effettuare la nostra giornata con successo, il Memorial è andato benissimo, abbiamo onorato la memoria di Dario e riuscita alla grande. Grazie a tutti i partecipanti la giornata è stata, come abbiamo preventivato, all'insegna del divertimento. Ci auguriamo che questo sia un inizio di una lunga strada per quanto riguarda la nostra passione. Voglio ringraziare veramente tutti di cuore, tutti gli sponsor, il comune di Militello Rosmarino, la famiglia. La manifestazione si è chiusa con un fuori programma da brivido. grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti.